Questo qui è il terzo giorno che vengo a prenderlo, sono medicinari, molte difficoltà. Farmaci che scarseggiano nel picco dell'influenza stagionale con il rischio di una recrudescenza della Covid, insomma, potremo trovarci nel bel mezzo di una tempesta perfetta. Qui non c'era, su un'altra farmacia c'era. La carenza di farmaci riguarda in particolar modo anti-infiammatori ed antibiotici. Mancano per tre motivi. Uno è la mancanza di determinati principi attivi, che principalmente le ditte farmaceutiche anche in Italia o a livello europeo, mondiale, vengono rifornite dalla Cina e dall'India. E più mancano anche dei prodotti che riguardano il confezionamento dei medicinali. In più si sovrappone, ultimamente abbiamo notato, anche un problema di produzione industriale, non solo in Italia ma anche in Europa. Carenze poi anche per farmaci più specifici, come ad esempio quelli per le patologie croniche. In questa situazione il farmacista consiglia di intanto assumere se ci sono reperibili dei farmaci equivalenti oppure fornire dei consigli per alternative terapeutiche a questo. In più, quando dovesse perdurare questo stato di mancanza di un determinato medicinale, il farmacista è stato sempre abilitato a fare il medicinale in farmacia in formula magistrale. L'invito adesso è quello al buonsenso dei cittadini per evitare accaparramenti che peggiorerebbero soltanto la situazione.